Musica Paura a tutti ragazzi siamo ancora noi Giù per Youtube Eccoci qua di nuovo su Call of Duty Ghost ragazzi Incominciamo subito nel multiplayer Bentornato soldato Vai e crea un soldato Bla 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 Bollettino del giorno oppure avete già rotto le palle In due secondi Vedete siamo a livello 1 Benvenuto Scegliamo il nostro soldato Questi sono tutti soldati Acquistabili con i punti Punti squadra Sei sicuro di voler acquistare Bla 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 Vediamo cosa dobbiamo fare Scegliere l'unità di assalto Vabbè ok Questo lo possiamo già prendere Abbiamo 0 punti squadra ragazzi Le armi sono rimaste le solite Ci sono un bel po' di cose Coltello Fucili di assalto Questi sono tutti fucili di assalto ragazzi Quello più forte Da quello che avevo sentito E' la K12 Anche Lonei Badger Che Dovrebbe essere abbastanza fortino Overpower Super mega power Super hyper power Ma banda Banda le ciance ragazzi Vediamo anche le altre armi Che ci sono Stato selezioniamo Va Le mimetiche Va Queste sono tutte le mimetiche Mimetica oro Lancia una morte Porta il tuo clan Ah E vabbè Ma che cacchio Devo mettermi in un clan Solo per sbloccare le mimetiche Ma vaffa Chiudo va Già incominciamo male ragazzi Queste 40 uccisioni 3 uccisioni 10 20 30 500 1000 Miliardi Mirino nessuno Questi sono tutti gli accessori Ragazzi Dabba ora Vediamo Mirini Canna Sotto canna Mod Blalala Cazzi e mazzi Freno di bocca Vabbè Chi se frega ragazzi Andiamo subito avanti Dabba ora ragazzi Secondarie Vediamo cosa ci sono Le secondarie Ah Solo pistolini In me Dei lanciamissili Vabbè Mi aspettavo di più Dalle secondarie Chi se frega ragazzi Vediamo Un po' le merda Le pistole Vabbè ragazzi Letali Vabbè I soliti Vabbè Non è cambiato niente ragazzi Sempre le solite letali Quelle sordenti Eccetera eccetera Non posso acquistare Zero punti di squadra Andiamo bene ragazzi Termobarica Che non so cosa sia Granate Trucarburi E valla Madonna Queste sono tutte le specialità ragazzi Velocità Destrezza Fortività Percezione Resistenza Trazione Elite Dabba ora ragazzi Ovviamente possiamo sbloccare una bega Perché non abbiamo Punto di squadra Dannazione Cioè potremmo andare un po' Per sbloccarci qualcosa No eh Pacchetto serie Le tre Assalto Supporto e specialista Come vedete Ci sono Quasi le stesse Di ogni Call of Duty A parte A parte A parte i god 4 Vabbè Quello a parte ragazzi Sono le stesse Supporto pure Approvvigionamenti Radar Juggernaut Blablabla Cazzi e mazzi Eccetera Specialista Ok Rimasto invariato Dabba ora ragazzi Andiamo subito Andiamo subito Che figo Che figo Che sfondo Come si può mettere lo sfondo Ragazzi Non lo seppio Non lo so Eh questo è il nuovo Sistema di menus Carino dai Serie attuale 1 Vittoria 60 Vittoria 60 Ma dai Ma è uscito 5 giorni Sto gioco Tanto partiamo Subito ragazzi Questa C'è questa Mappa Siege 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 Vediamo Selezioniamo Vai la prima Va Chi se ne frega Ragazzi 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 La partita Comincia tra 8 7 6 5 4 3 Disattiva ovviamente Tutta la voce Tutti Tutti Ok Andiamo Se ragazzi Prima partita Con tutti Ragazzi Wow Andiamo eh Vediamo se Riusciamo a mantenere Un bel Rapporto Uccisioni morti Allora Prima Kito Sta mappa Sembra carina Dai ragazzi Andiamo Vediamo se c'è qualcuno Qua C'è una Vega Va C'è una Vega Oh Prima Kill Ragazzi Da paura Brucia Pelo 220 Punti Da paura Ragazzi Questo qua E' morto Ciao 300 300 Dollar No 300 punti Colpa la testa Ragazzi Ci coeggiamo Subito alla grande Come non detto Subito Fucciati E la madonna Che cacchio di mirino C'hai Già il termico Che nerd Ragazzi Questo Grazie Si è fermata A mezz'aria Sulla scala Molto intelligente A parte tua Andiamo ragazzi Oh che figo Che figata Quando sale le cose Incredibile Da paura ragazzi Vediamo Se riusciamo A fare qualche Altra kill Uh 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 Eccoti 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 Ma basta Ma sempre Sto tizio Col coso termico Hai rotto Le balle Maronna Assist Oh oh Preso 200 points 200 points Da paura ragazzi Andiamo 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 C'è uno sopra di noi Vediamo Non c'è più Tanto la gente mi ostacola Vediamo Che camper Muori Te Succa camper Succa Succa Bello Che pezzi di merda Già camperare Oh Caspita Prima partita Vediamo Se riusciamo a beccare qualcuno Con una grata A random Direi di no Vediamo Vediamo Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è C'è qualcuno C'è qualcuno Tanto mi arrivano colpi addosso Dalli miei compagni Vabbè Che infami ragazzi Vediamo Vediamo Riuscirò Riuscirò A prendere qualcun altro Vediamo Cucu C'è qualcuno Qua 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 No Nessuno Vediamo ragazzi Tanto c'era un cane Che figo Un cagnolino Ulla madonna Quanti siete No nessuno Ah il radar però Boh Aiaiaiai Mamma Remma Mamma mia Dai vieni Vieni pezzo di merda Dai Chi è il camper adesso Chi è il camper adesso Eh No comunque dicevo Il radar Boh Sembra Sembra strano Sat Sat Che minchia è il satcom Satcom Oh ragazzi La voce è impazzita Dice cose a caso Che minchia è il satcom Boh I don't know I don't know Veramente non lo so Vediamo ragazzi Intanto non sto più trovando nessuno Sto agendo da due anni Ma Vabbè Vediamo 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 Oh la madonna Lì cos'è che c'è Un reggimento di mine Oh Sono tutti sotto di me Ma Eccolo Ole Ah satcom Ce l'ho anch'io Cos'è Ah ma è l'UAV Ma vaffaculo va Mica l'avevo capito eh Certo che se non me lo spiegate prima Ragazzi No vaffaculo era mio Che infemus Vediamo Vediamo Uh uh Ce n'è uno qua sotto Vediamo Vediamo se c'è C'è Eccoti Pezzi e merda Dove vai Dove salti Pezzi e merda Preso ragazzi Preso Dai stiamo facendo Un bello score 7-2 Il nostro UAV Ancora quiz Qua sopra No non c'è nessuno Ovviamente Camperò io Non c'è mai nessuno sotto eh No mi sei distrutto Mi hanno dato a puttare l'UAV Oh Che infami Proviamo a camperare qua ragazzi Magari c'è qualcuno Cazzo Cazzo quello lì è morto Così a random Eccolo Eccolo Mamma No 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 Non mi fare il culo Non mi fare il culo Non mi fare il culo Dove sei Dove sei Vediamo Vediamo se riesco a Prenderlo da dietro Eccoti Ah ma questo qua è rinato qua Che culo ragazzi Intanto ho il quane Ho il cane da guardia ragazzi Vediamo Vediamo Non so cosa Come cacchio lo faccio ad attivarlo Cioè più che altro Come Come viene fuori sto cane Vediamo Ah così Fischia A random Bah Assurdo Non ho ben capito come cacchio faccia sto cane a venire fuori Ma vabbè Andiamo ragazzi Andiamo Vediamo se riusciamo a trovare qualcun altro Daie 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 Ah ma il cane è qua Eccolo Ah mi segue Che figata ragazzi Oh 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 Preso Promozione Da baura ragazzi Promosso Promosso Andiamo bene ragazzi 9-2 La prima partita ci sta ragazzi Da baura Andiamo se Andiamo se Oh oh Ciao bello Ciao bello Ciao bello Ti voglio bene anch'io Ciao bello Altra gente di qua Altra gente di qua No eh Altra gente Altra gentaglia Vediamo se riusciamo A prendere un po' di sorpresa Con il cazzo Non c'è nessuno Non c'è ninguno Non c'è nessuno ragazzi Uh uh T'ho visto T'ho visto T'ho visto Pezzo di merda T'ho visto T'ho visto Eccoti Dai dai Ciao bello Doppia Doppia Da baura ragazzi Wow Da baura ragazzi Vediamo Vediamo Per me c'è qualcun altro Che arriva da di qua Di sicuro Uh uh Cane Grande cane Maniac Cos'è sto maniac Non so ragazzi Boh Vediamo cosa mi viene fuori Mi sa Che figo La corazza jug È andata addirittura Minchia ragazzi Prima partita stupenda Da baura Vediamo 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 Maniac Ehm Ah però corro di più Bah Non capisco Come possa io correre di più Avendo una corazza addosso Però Mi gusta Mi gusta Ragazzi Andiamo Andiamo Non abbiamo armi Si mi sembra C'è abbiamo solo un coltello Credo Vediamo eh Ovviamente Prendo io sta roba E non c'è in giro nessuno Eccoti Ciao bello Ciao bello Ciao bello Wey Come va Ciao zio Give me five Da paura ragazzi È fantastica sta corazza Bello che corri 500 volte Più del normale Ma E la gente ti fa un cazzo Oh oh Ti faccio il giro Aspettami 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 zio Che ti faccio il giro Aspettami Aspettami Grande Ma sei un mito zio Grande Da baura ragazzi 15 uccisioni Prima partita Emozionevole Emozionante Da baura ragazzi Andiamo Andiamo Tanto il cane Mi seguo ancora Incredibile È insancabile Sto cane Stato come attivato Ma io non vedo Una vega Sulla mappa Stato come mi sa Tanto di cazzata Stato cazzata Oh 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 Aia 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 Che pezzi Merda No mi ha rubato L'uccisione Che strunz Vediamo Uh un altro Un altro Eccoti Ciao bello Ciao bello Ciao bello No Ma ha ucciso Daniel Ma ha ucciso Pure il cane Che pezzi Merda Però ragazzi Veramente Fantastica Sto armatura Stiamo vincendo Stiamo stramincendo Direi 62 a 33 Eccoti No Ma come cacchio Ha fatto a uccidermi Dai Ma puoi Che palle Assist Ma dai L'avevo ucciso io Oh oh Preso anche te Promozione Un'altra promozione Ragazzi Incredibile Tanto la gente Mi rompe sempre le balle In mezzo alle balls Double Ragazzi Andiamo Andiamo 67 68 Incredibile Da che la vinciamo Tranky Funky 69 Ma sto Satcom Non l'ho ancora capito Ma fa cagare Cioè non vedo nessuno O hanno tutti invisibilità Ma non credo Siamo Cioè due o tre giorni E' uscito sto gioco E' impossibile Però Boh Non vedo nessuno Vediamo eh Riuscirò a fare l'ultima kill io Andare in killcams In killcams Penso di no Penso proprio di no Perché non c'è più nessuno Ragazzi Eccoti Anzi si Uuu Dai Ma che palle Ma puoi Cazzo La leggenda dei nomi Straordinari Vabbè ragazzi Vittoria lo stesso Da paura 75 41 Eccellente Eccellente Smithers Incredibile Questo c'ha Un vector Ma che cacchio di menino Ha quello che si cambia Che brutto ragazzi Però eh 17 5 Assist 3 1760 punti Ragazzi Incredibile Prima partita Colmaniac Sbloccato Da paura Ragazzi Beh ragazzi Direi che per oggi Può anche bastare così Incredibile Prima partita Su club duty Colmaniac Sbloccato Allora mi raccomando Se vi è piaciuto il video Vedete un mi piace Condividete Fate tutto quello che vedete Iscrivete al nostro canale Youtube Giupito E noi ci vediamo Al prossimo video Da paura ragazzi Wow Ciao Ciao!